C'è un senso di sgomento per quello che sta succedendo all'interno delle carceri italiane. A Teramo, nella struttura penitenziaria di massima sicurezza di Castrogno, nonostante la tensione dei detenuti sia alta per il divieto di non poter ricevere visite secondo le disposizioni dettate dal contagio da coronavirus, la situazione sembra normalizzarsi. Il sovraffollamento, sono 420 le persone detenute a fronte del numero massimo di 275 e la paura di contrarre il virus e fare la fine dei topi, avrebbero potuto portare ad una tragica rivolta i detenuti della casa circondariale di Teramo, fortunatamente sventata. Il fatto è che la vita in carcere si fa sempre più dura, come ci spiega l'avvocato Vincenzo Di Nanna, segretario provinciale di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, associazione fondata da Marco Pannella. Come si vive a Castrogno? Sono condizioni di carcerazione inumana, in violazione della legge della Costituzione e della legge internazionale, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, direi parlare di distanza di un metro quando purtroppo sono accalcati, ma a questa condizione già di sistematica violazione dei diritti umani dobbiamo adesso sommare le ultime decisioni irragionevoli prese dal Governo che non consente in questo momento il colloquio con i familiari. L'azione politica è quella di denuncia, ma in una condizione in cui l'intera popolazione italiana è sottoposta di fatto ad un regime di detenzione domiciliare, salva autorizzazioni per lavorare, bisogna stare pure attenti se si viene scoperti fuori casa, eccetera, di sofferenza enorme, figurarsi poi le preoccupazioni di chi? Privato di diritti umani fondamentali, eccetera, teme di fare la fine del topo, intrappolati e in carcere il coronavirus arriverà se già non è arrivato, è impossibile che ciò non accada perché il contagio verrà dall'esterno. Intanto proprio in mattinata il responsabile della medicina penitenziaria dell'asla di Teramo, il dottor Massimo Forlini, ha incontrato a Castrogno gli operatori sanitari e i detenuti per spiegare loro le misure di prevenzione contro il contagio da coronavirus. All'interno del carcere Teramano saranno distribuite mascherine ed effettuato un pretriage per tutti. Per il momento la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.